Senatrice Craxi, le donne sono purtroppo tuttora escluse dal processo decisionale dei processi di pace. Quanta strada dobbiamo fare ancora? Io non sono totalmente d'accordo con questa affermazione, nel senso che ci sono sia in Europa che al di là dell'Atlantico, in cui sono stati in questi anni, molte donne che hanno ricoperto ruoli importanti in termini decisionali anche su queste questioni. Se lei pensa che tanti segretari di Stato americani sono state donne, a partire da Lord Blight recentemente scomparsa per arrivare a Hillary Clinton, se lei pensa comunque anche molte figure apicali oggi nel sistema europeo sono donne. Quindi diciamo che solitamente le donne non fanno la guerra, magari la provocano, ma io penso che sia una voce importante invece sulla strada della pace. Poi penso che la pace debba essere ottenuta all'interno di regole di sicurezza e di deterrenza. Però io penso che le donne abbiano una voce importante già oggi, certamente sulla strada per darle sempre più voce e bene lavorare.